La misura è colma ed anche la pazienza sta per terminare. Ennesimo furto ieri sera in Viale Europa ai danni della Croce Rossa, comitato Agropoli e del Cilento. Facciamo questo post per informare la cittadinanza di Agropoli dell'increscioso e deprecabile episodio di furto avvenuto presso una delle nostre sedi di Croce Rossa, lo scrive la presidente Gianna Infante a seguito del furto subito in Viale Europa. Purtroppo sono stati sottratti moltissimi beni destinati alle persone più bisognose, in particolare abbigliamento per bambini e neonati. Lo scopo della nostra associazione, continua Gianna Infante, il fine della Croce Rossa è quello di soccorrere ed aiutare le persone che oggi più che mai si trovano in difficoltà. Per questo facciamo un appello a tutti coloro ai quali verranno venduti per pochi spicci questi beni. Le persone che credono di poter trarre vantaggio dall'acquisto a poco prezzo di questi beni devono sapere di acquistare beni che sarebbero stati destinati alle famiglie bisognose del nostro territorio, ai bambini meno fortunati che vivono le rinunce nel nostro paese. Spero nell'indignazione comune e nell'unità del nostro territorio, spero che chiunque si trovi di fronte alla possibilità di acquistare tali beni denunci in modo da sollecitare chi di dovere di prendere provvedimenti.